Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo finalmente riusciti ad entrare qui all'interno della cantina Ghigno Il problema è che anche uscendo da qua non ci serve a nulla Dobbiamo prima liberare loro due Ma avete salvato, sono Taruccio il proprietario di questa cantina E io sono suo fratello minore, Tichetto Quella strana coppia ci ha rinchiuto nelle botti, ma voi ci avete aiutati, vero? Tutto lo dico Oh, per concludere il discorso La strana coppia che va assaltata sta cercando il netto ridolino all'interno del bosco E se anche voi cercate il netto ridolino? Oh, ma chissà se questa cazzosa leggenda esiste davvero Io e mio fratello non abbiamo mai visto nel netto ridolino e né tantomeno abbiamo mai bevuto All'interno del bosco Ghigno c'è il santuario intoccabile, è difficile arrivare fin lì Eh? Cosa? Cosa? Oh, con il salto si calpestano i nemici E con il martello si distruggono le pietre che si apre per la strada Ah, sicuramente voi due potete addentrarvi nel bosco con le mosse che conoscete Etichetto, forse i loro martelli... Ah, anch'io, pensavo la stessa cosa Oh, chiedo Venia Seguiteci per favore Arriviamo? Ciao Un momento fa ho parlato con mio fratello Ci avete aiutato e allora vorremmo insegnarvi delle nuove mosse martello Azioni Queste azioni martello sono state raffinate nel tempo in questa cantina Se le imparate bene vi torneranno utili nel corso dell'avventura del bosco Volete imparare le azioni martello? Chissà cosa succede se diciamo di no Però, per ovvie ragioni diciamo di sì Prima di tutto, tu, Verdicchio Fammi vedere il tuo martello Ah, interessante Ah, certamente Con il martello del genere Dunque, con il pulsante R seleziona un martello Sì? Hai? Hammer Hammer Esatto Con il pulsante B golpisci Puff Queste sono le misteriose azioni martello Alzando il martello verso il cielo si impregna di energia del bosco E vedrete Chi viene colpito dal martello si rimpicciolisce Diventa come il topolino e passa nelle fessure anguste E non vi viene voglia di provare Per farlo tornare normale basta usare di nuovo il martello Dai, provaci Puff Ciao Sono il mio di Mario Oh, hai impregnato subito ad impregnare il martello con le energie del bosco Bene, adesso prova a farlo tornare normale Incredibile, perfetto Sei davvero un genio Adesso tu, Brunello, fammi vedere il martello Ah, interessante Dunque, premete start per scambiarvi di posizione Poi, con il pulsante L, seleziona il martello Hammer Hammer Esatto Con il pulsante B colpisci Ciao E questa è l'azione martello suprema L'eccellente, vero? Si impregna di energia della terra e diventa come un uragano Chi viene colpito dal martello si confonde con la madre terra Diventando invisibile Ovviamente anche in questo modo ci si può spostare usando la pulsantina di comando In questo stato si è come talpe, si può passare sottoterra Non vi è venuta voglia di provare Sì Per emergere dalla superficie basta aprire il pulsante A Dai, provaci Ops, sbagliato Start Hammer Fantastico, stravidoso Il martello colpisce con l'energia della terra e la forza dell'uragano Bene, adesso riemergi col pulsante A Perfetto E ora è tempo di mettere in pratica le azioni martello Con la tecnica che avete imparato Prendete due calici della gazzosa Che sono nelle stanze di destra Si dice che quei due calici siano così preziosi Che il tempo erano chiamati il tesoro di fagiolandia Ora che avete imparato le azioni martello Impregnatevi della luce e forza Dunque, gentiluomini Portateci due calici Parentesi su questa cosa dei calici Se loro sanno già queste azioni Martello Perché non sono loro da andarle a prendere? Punto di domanda Ma vabbè, guarda Va bene così Allora, iniziamo da questa qua Prima di tutto I cerchi che ci sono per terra Nascondo il fagiolghigno Qua dobbiamo andare con Luigi Soggiorno dei topolini Attenzione alla testa L'ingresso è molto angusto Ma va? Vendete qua Pavimento di ferro Pavimento duro impossibile da scavare sotto la superficie Mmm E allora Vai Mario Mario? Ok Per qualche motivo non stava andando avanti Hai preso il calice rosso La sua luce è abbagliante Eh certo Poi Ah Piccolo trucco Questo trucco qua Ti fa guadagnare monete Ma ovviamente fa perdere vita Luigi Abbiamo 388 monete E Luigi 31 di vita 390 monete 390 monete Luigi 29 di vita Volendo puoi stare qui a Continuare a farmare soldi Ma Chi c'ha voglia? Cosa ci sarà scritto qua? Soggiorno delle talpe? Esatto Scavare sotto la staccionata Non sporcarsi i vestiti Eh certo Come se fosse facile Puff Di qua Ecco fatto Perché se no Luigi non può uscire giustamente Vai Mario No ho sbagliato Mario Let's go Ecco qua vediamo cosa c'è scritto Attenzione a non colpire le cose sulle pareti Non leggo quello che c'è scritto su queste istruzioni io Hai preso il calice verde La sua brillantezza è splendente E allora usciamo di qui Eccoci qua con i due calici Oh Il calice rosso e il calice verde Gentiluomini Siete fenomenali Favoloso Ora non c'è più nulla da insegnarvi Avete imparato la perfezione e le azioni martello Allora gentiluomini Dobbiamo entrare nel bosco per trovare il netto ridolino Ok Parentesi Visto che già siamo qui e Difficilmente torneremo in queste zone Io Punterei già subito A prendere i fagiolghigni Sì questo ci costringe a dover rifare quel labirinto Ma ehi Intanto iniziamo già a prenderli Eccone qua un altro all'entrata Uno invece è qua nell'erba Luigi però Ecco Fatto Preso Uno era qui Ancora Nella parte iniziale Ah guarda Ce n'era uno anche nascosto qui Non pensavo si potesse salire Si scoprono sempre cose nuove E ora che abbiamo queste nuove tecniche Possiamo salvare Qua c'è un blocco da prendere Uno Due Tre Quattro Tro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Dodici Tre Quattordici Quindici Sei C'è Sette Diciotto C'è Nove Venti Venti monete Va bene Ricordate che all'inizio Non si butta nulla E ora proseguiamo Benvenuti Nel bosco ghigno In questa zona ci sono alcuni nemici Che non sono difficili da battere Sono un filo fastidiosi Perché sono spinati Occhi tocchi Pappa resca Pappa Tra l'altro Nuove azioni martello Non le possiamo ovviamente Beh in realtà contro di loro possiamo Con quella di Mario Con quella di Luigi no Con Mario possiamo farlo perché Colpiamo effettivamente col martello Con Luigi invece Dobbiamo colpire chi non ha le spine Aia No Questo qua Tra l'altro questo colpo qua martello di Mario è assolutamente il mio Il mio preferito Nonostante anche quello di Luigi sia Bello forte Questo qua di Mario L'ho sempre Ah stupido Preferito perché ho sempre pensato che Facesse molti più danni Quanto ci fai che anche a questo giro Quello di Luigi sale prima di livello di quello di Mario Ah Tra l'altro fra queste Come vengono chiamate Aspetta vediamo Fra questi Goomba selvatici Si nasconde Un fagiolo rosa Se sconfiggi il fagiolo rosa Se non sbaglio Ottieni una spilla Ecco fatto Eccolo Però non è giallo È dorato Ok Però l'abbiamo ucciso Tessera spina Perfetto Per un attimo ho avuto paura Perché se non lo sconfiggi in tempo Scappa Scappa lo stronzo Allora Spina della morte Due danni con il salto sui mostri con le spine Non ho capito Cioè noi prendiamo due perle Se saltiamo sui mostri con le spine Non ho Non ha senso Va bene Ecco fatto Occhi tocchi Noi intanto Continuiamo Ad allenarci Perché ci serve Prima riusciamo a livellare Le mosse fratelli Prima potremmo usarle contro i boss In versione avanzata Ecco fatto Tra l'altro L'evoluzione della mossa di Luigi È figa È veramente figa Ma ho sempre fatto fatica ad utilizzarla bene Qua c'è la mappa Questa è una mappa del labirinto Se ne si perde Basta consultarla Allora Per proseguire Dobbiamo Andare Verso l'alto Perché se non sbaglio Verso sinistra È chiuso per ora Però noi Ah Vabbè Non ce l'abbiamo fatta Prenderlo Ecco fatto Prima di poterci ricaricare Troppo presto Devo andare con più calma Devo farlo con più calma Quel colpo Il problema è se Continuo a sbagliare Alla fine Ci vuole molto più tempo Prima di poter livellare Queste mosse No Ecco fatto Un altro ghigno fagiolo Di qua Invece Aspetta Ecco appunto Cioè aspetta che arrivano le spine Paff Ok Speravo di togliergli le spine Con un colpo solo Ma Non ce la facciamo Siamo ancora Troppo deboli Ah Speravo di averlo schivato Un colpo fortunato Sarebbe ottimo adesso No Perfetto Ok Ah e dai Fatti colpire Che pal Quando è Quell'esatto Momento Non troppo avanti Ma non troppo preciso Per prenderlo E ti prende lui E Veramente orribile Puff No qua ho sbagliato io Ecco fatto E' veramente Terribile Paff 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 Rompiamo questo E Oh oh Ma cosa abbiamo qui Ecco qua Un po' di soldi Un fungo Certo che è un fungo E uno sciroppo Mmm C'è un altro tubo E possiamo tornare Al piano astrale Per adesso Non ci serve Ma chi lo sa In futuro magari Usiamo Due sciroppi Ecco fatto Ok Proseguiamo di qua Come dicevamo No Dobbiamo andare Dritti Puff 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 Ah no pensavo si abbassasse Scusatemi Qua Ecco fatto Siamo nella parte giusta Sì Siamo dalla parte giusta C'è una mappa giusto Per controllare Due secondi Ok Credo di ricordarmi In che pezzo siamo Allora Andiamo Andiamo Vai Staccati Ok Funghetto Uno sciroppo E un altro sciroppo Perfetto Abbiamo appena recuperato Gli sciroppi Che abbiamo appena usato Perfetto La via Ora è aperta Andiamo però Giustamente A salvare No Ecco fatto Siamo all'interno Del bosco ghigno Qua ci sono altre Di queste Ok Oh ma guarda Una tartaruga ci blocca la strada Forse dovremmo tornarci più avanti Per adesso Proseguiamo di qua Tra l'altro Non ho mai cercato Ma chissà Quanto ci vuole Per fare una speedrun Di questo gioco Fondatore Proprietario frizzo Poesia d'amore Il barile vuoto Come cuor d'uomo Ci si entra dal fondo Insomma È un modo per dire Entra nel barile Con Luigi Aiuto Oh no È esplosa la faccia Allora Di qua E di qua Più che altro Non stiamo vedendo Altri nemici Ecco Stavo dicendo Non stiamo trovando Altri nemici Speravo di riuscire a colpirli Puff Ecco qua Se riusciamo a trovarne Un altro dorato Sono contento Verso Mario Se riusciamo a trovarne Un altro d'oro Mi fai contento Veramente Almeno prendiamo Un'altra spilla Ecco qua Avrei dovuto Avrei dovuto usare La mossa Sì Lo sono dimenticato Certo Allora qua C'è una roccia Aspetta Dai Perché non esci Criminale Occhi tocchi Allora Dicevamo Ho sempre pensato Che con i mici grossi Quella mossa qui Facesse un sacco di male Due Tre Perfetto Ok Due turni Di confusione Sono sempre ben accetti Ok Tocca Luigi Perfetto Quarantanove Preso Dai Mario Spezzagli le spine Due Tre Ok Niente Tizio d'oro Preso E abbiamo ottenuto Un fungo Allora Siamo qui Dobbiamo Tirare dritto Per ora Però Prima vediamo Cosa c'è qua Anche se già lo so C'è una grotta Che non ci permette Di salire Vediamo un attimo Di qua Allora Aspetta Preso in pieno Proprio qua In faccia Ecco Quel nemico qua Questo Specie di Piumotto È meglio Togliercelo Dalle balle Subito Preso Perfetto Vai Mario Paff Ecco qua Yes Saliti di livello Bravi Tutte e due Allora Mario Cosa aumentiamo Punti vita Punti fratelli Vedo un uno Vedo un uno Vedo un uno Vedo tanti Quattro Quattro Aspetta Vedo un uno Allora Io punterei Punti vita Mi sembra di vederne Pochi di uno Però Andiamo sul sicuro Per adesso Lo sapevo Dio santo Se lo sapevo Che mi avrebbe dato Il due Sono apparsi Due quattro Di fila Il due Non parliamone Ok Luigi diventerà un tank Sappiatelo Roccia Ok Spammiamo Che così Ecco fatto Prendiamo tutto Quello che ci serve Allora Fermi tutti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dove C'è tre Quattorda C'quindi Sei C'è set C'è otto C'è nove Venti Venti Monete Mi sa che Venti è tipo Il massimo Che riesci sempre a prendere Da ste cose Ecco qua Quanto siamo Con i fagioli Giusto curiosità mia Siamo a Sessanta Madonna mia Sentaquattro di quelli verdi Dieci di questi qua rossi E due di quelli gialli Ce ne manca solo un tipo Che sinceramente Non ricordo dove si prende Proseguiamo di qua Anche perché da questo lato È la via giusta Per ora Vediamo Prima Sconfiggiamo i nemici Poi ci occupiamo Di andare avanti Uno Due Perfetto Ok Ok Pensavo sarebbe tornato indietro Non mi ricordavo Effettivamente La loro mossa Perfetto Niente Non la facciamo evolvere Questa mossa Va bene Ci metteremo più del Previsto Ma ehi Comunque Ce la faremo Occhi tocchi Tutti i nemici Sono da fare fuori Mi dispiace dirlo Ma Se vogliamo Giocare bene E livellare forte Bisogna uccidere Tutti quanti i nemici Se vuoi soprattutto Livellare le mosse Il trucco è usarle Certo Consumi Un po' di sciroppi Ma arriverai a fine gioco Che ne avrai 99 Uh eccolo qua Ne avrai comunque 99 Quindi Preso Ok Altra spilla Spina Yes Ok Allora Altra poesia Ecco Da sopra L'uomo barile Godo di una nuova veduta Verdolino Si uomo barile Con L Seleziona l'icona Barile Grazie lo so Lo sapevo già prima Che tu me lo dicessi Frizzo Ecco qua Un altro di questi Prendiamoli tutti Ci servono i fagioli Ci servono questi qua Questi qua rossi Diciamo che non sono Difficili Rispetto A quelli verdi O quelli gialli Da ottenere Sono comunque Numerati Diciamo Perché non sono infiniti Visto che In tutto il gioco Ce n'è una quantità Definita appunto Dalle x Sul terreno I rumori Che fa Mario In sto gioco Sono Ce li ho ancora In testa Di tutta la vita Ecco fatto Allora Uno E due Siamo arrivati Sì Siamo arrivati Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti